Parma-Napoli in programma domenica alle 18 al tardini, salvo clamorosi colpi di scena, si giocherà regolarmente. Nelle ultime ore erano emerse voci di un possibile sciopero dei giocatori giallo-blu per protestare nei confronti della mancanza di garanzie sul futuro del club e per richiamare l'attenzione sulla situazione crociata da parte di Lega e FIGC, attenzione che nelle ultime settimane si sarebbe affievolita. Proprio per questo stamane i curatori fallimentari Angelo Anedde e Alberto Guiotto, accompagnati da Demetrio Albertini, hanno raggiunto Roma per incontrare i vertici di Federcalcio e Lega. I giocatori di Donadoni potrebbero eventualmente decidere, in accordo con l'Associazione Italiana Calciatori, di adottare una forma di protesta più blanda, come il ritardo di 15 minuti dell'inizio della partita. Intanto, dopo l'ufficializzazione della rescissione di Belfodil, annunciata in anteprima dalla nostra Teleducato nel Tg di sabato scorso 2 maggio, ora a trattare l'addio è anche mirante. Il portiere potrebbe lasciare la maglia crociata dopo la gara con il Napoli. L'obiettivo dei curatori sarebbe però quello di arrivare, con l'avvallo della stessa FIGC, alla risoluzione in blocco dei contratti dei calciatori cosiddetti esodati, ossia dei tantissimi di proprietà del Parma, ma in forza ad altre società. Un modello che era già stato attuato con successo nel 2009 con il fallimento del Pescara, ma che rischia di scatenare un'autentica guerra legale. Alla squadra intanto continuano ad essere vicini i tifosi. Stasera, in un ristorante ai margini della città, tradizionale festa annuale del Parma Club Traversetolo, con la presenza di Capitan Lucarelli, di Gobbi, Mauri, Ghezzal, Lodi, Presti e Baiza, interverrà anche il team manager Sandro Melli. Il punto della situazione in casa crociata stasera, come ogni giovedì alle ore 21, in diretta sulla nostra Teleeducato, con Calcio e Calcio più.